Bene amici, anche oggi il Corriere mi ha portato dei giocattoli, chi lo sa, speriamo. Partiamo dal pacchetto più piccolo, che è questo qua, vediamo un po' cosa c'è dentro, apriamolo col mitico taglierino, lo richiudiamo per sicurezza, c'è dentro, c'è dentro, c'è dentro, uno smartphone, perché dalla forma è quella, ok, il Lenovo K5, che proveremo presto. Un altro super pacco, questo è un pochino più grande, qua dubito che ci sia dentro uno smartphone, ma sono curioso di sapere cosa c'è, perché stavo aspettando due o tre cosettine, e vediamo subito, vediamo subito, vediamo subito. Allora, cos'è questo? Un mouse da gaming, perché non so se avete visto il post che ho fatto ieri su Facebook, su Instagram, sui vari social, praticamente Stermi, sì, campione mondiale, il macerico mondiale internazionale, intergalattico, interstellare di Sparatutto e anche di altri giochi, mi ha sfidato a Overwatch. Perderò sicuramente, farò una figura barbina, ma combatterò fino alla fine con cinque di voi che ho assoldato su mia pagina Facebook, gliela faremo vedere, almeno speriamo. E quindi, appuntamento venerdì, 17.30, 18.45, un negozio a Milano, via Procaccini 20, insomma, andate su Facebook, c'è il post, sarà veramente una bella sfida. E vediamo qua, sì, il mouse da gaming mi mancava, perché giocare, ci ho provato, con il mouse normale o con la tastiera, praticamente impossibile. Questo invece è un pacco surprise, perché non ho assolutamente idea di cosa ci possa essere dentro. Secondo me è un pacco vostro, uno di quelli che mi mandate voi, e tra l'altro è chiuso in maniera impossibile. Non riuscirò mai ad aprirlo. Ragazzi, quando fate i pacchi, per me, magari chiudeteli in maniera un po' meno cattiva. Oh, c'è ancora una lettera! No! Ho tagliato la lettera! Con il taglierino, dovrò ricomporla per leggerla. Vediamo di non romperla del tutto. Allora, facciamo così. Ecco, insegnamento numero uno. Mai mettere le lettere sopra il pacco, perché col taglierino si possono tagliare. Eccola qua la lettera. Troppo lunga. Ciao Andrea, mi chiamo Alessio, ho 17 anni, sono un tuo grande fan. Si da quando facevi le videoprove su Telefono.net, il primo smartphone l'ho acquistato per aver visto la tua recensione e successivamente hai evitato obbligo a guardare tutti i tuoi video come un dipendente a quel giorno quando c'è necessario di acquistare uno smartphone. Ovviamente guardiamo i tuoi video. Da quando hai deciso di fare la tua carriera solista è ancora più piacevole vedere i video perché in questo modo è sicuro che le tue idee non sono influenzate da nessuno dopo tutti questi anni. Ragazzo, ti assicuro, caro Alessio, che la leggerò tutta perché adesso faccio pratica a leggere perché l'ho tagliata, ma veramente grazie. Ma vediamo cosa c'è dentro il pacco. Oltre a tanta carta, oltre a tanta carta, vediamo, 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 vediamo. Vediamo cosa c'è. Un adattatore per i notebook, probabilmente, sì, ma perché, perché, perché c'è l'adattatore per notebook? Cos'è questo? Potrebbe... no, ho perso un pezzo. Allora, cosa devo fare adesso? Andare a studiare questo cubetto che già mi intriga parecchio, ma ce n'è un altro che è caduto per terra. Sono dei piccoli videogiochi. Cosa sono? Sono curiosissimo di andare a giocare con queste cose che mi sono arrivate. E allora vado. Ciao! Ciao! Ciao!